Salve buona settimana a tutti ed benvenuti al consueto appuntamento di fine settimana dove praticamente andremo ad analizzare quello che è successo dal punista macroeconomico durante l'ultima seduta della settimana e poi vedremo in pratica quello che è successo durante la settimana con i nostri grafici settimanali e poi dando anche l'esalto ai grafici giornalieri beh iniziamo subito che cosa è successo per quanto riguarda l'ultima seduta delle borse europee vediamo che sono delusi dalla regione della BCE in attesa di quella della Fed i listini europei hanno chiuso l'ottava con il segno meno in scia del netto calo del greggio infatti il VTI è stato quotato sotto 36 dollari mentre il Brent è arrivato a 38 dollari per quanto riguarda le borse europee abbiamo assistito a un fortissimo andamento negativo che ha spostato il Dax a meno 2,44% l'Ibex a meno 1,51% il CAC di Parigi a meno 1,84% i Fuzzi di Londra a meno 2,22% e chiude il Fuzzi Mimbo con meno 1,84% mentre per quanto riguarda il Wall Street invece affonda anche i principali listini Wall Street segnando la peggiore seduta del mese di settembre infatti dal mese di settembre scusatemi il Dow Jones chiude al meno 1,80% lo Standard & Poor's al meno 1,90% e il Nasdaq perde il 2,20% ieri abbiamo per quanto riguarda le news macroeconomiche dell'ultima seduta della settimana e ricordiamo che ce ne sono state un bel po' la giornata è stata segnata da diversi market mover si parte di buon mattino con la Germania dove i prezzi all'ingrosso hanno subito un ulteriore calo il dato di novembre segna appunto una contrazione mensile pari allo 0,2% dal meno 0,4% precedente poi sempre dalla Germania c'è stata l'inflazione che praticamente non c'è stata nessuna sorpresa l'inflazione resta in linea con le previsioni l'indice dei prezzi appunto segna un incremento mensile pari allo 0,1% mentre su base annualizzata si registra un incremento pari allo 0,4% dagli Stati Uniti invece abbiamo le vendite al dettaglio che nel mese novembre hanno subito un aumento dello 0,2% rispetto al mese precedente quando erano salite dello 0,1% il dato seppur in accelerazione inferiore però alle attese di analisti che avevano messo in preventivo un dato allo 0,3% sempre negli Stati Uniti abbiamo gli indici dei prezzi alla produzione che hanno subito nel mese novembre un rialzo dello 0,3% rispetto al mese precedente e un calo dell'1,1% su base annuale gli analisti avevano stimato una produzione invariata su base mensile e in calo dell'1,4% rispetto al novembre del 2014 ora passiamo invece ai principali market mover in programma la prossima settimana dal 14 al 18 dicembre si parte lunedì 14 con direttamente dal Giappone durante la notte abbiamo la provisione del settore fatturiero alle ore 11 la produzione industriale della zona euro martedì 15 10.30 dalla Gran Bretagna abbiamo l'indice dei prezzi al consumo alle ore 11 dalla Germania abbiamo l'indice 0 alle ore 14.30 dall'America abbiamo l'indice dei prezzi al consumo mentre per quanto riguarda mercoledì 16 invece mercoledì diciamo che abbiamo abbiamo una seduta abbastanza ricca di dati macroeconomici partendo dalle ore 9.30 dall'Europa abbiamo in Germania abbiamo l'indice market PMI e manufatturiero la stessa cosa alle ore 10.30 dalla Gran Bretagna abbiamo la variazione della richiesta di sussidi di soccopazione mentre alle ore 11 dalla zona euro abbiamo l'indice dei prezzi al consumo alle ore 15.15 abbiamo la produzione industriale e manufatturiera americana però il dato più importante che sarà seguito con fondamentale attenzione arriverà alle ore 20 dagli Stati Uniti la consueta meeting della Fed dove ci sarà molto probabilmente con la decisione di tassi di interesse molto probabilmente ci sarà un tanto sospirato, cognato aumento dei tassi di interesse ricordate che diciamo che gli americani la Fed non ha mai erano sono anni che non ha sempre mantenuto inalterato i tassi di interesse ma molto probabilmente anche dalle varie informazioni che si hanno che ottenute positive soprattutto dei positivi dati degli ultimi più dei dati macroeconomici provenienti dall'America cioè gli ultimi dati più importanti molto probabilmente spingeranno dopo molto tempo a un ritocco in diciamo un ritocco dei tassi di interesse e poi alle ore 20 e 30 avremo la conferenza stampa la consueta diciamo di solito quando c'è un è notorio che quando abbiamo una banca centrale che si riunisce per sui tassi di interesse quindi praticamente subito dopo abbiamo la conferenza stampa del del presidente e quindi abbiamo anche in America abbiamo quindi la conferenza stampa della Yellen poi chiude la serata la seduta alle 22 e 45 avremo il PIL della Nuova Zelanda passiamo a giovedì alle ore 10 abbiamo euro l'info della Germania 10 e 30 Gran Bretagna venite al dettaglio e dagli Stati Uniti abbiamo le richieste di sussidi di disoccupazione venerdì 18 invece 14 e 30 dal Canada indice di prezzi al consumo mentre invece alle 15 e 45 abbiamo l'indice market sui servizi allora poi adesso passiamo allora adesso invece passiamo all'analisi dei nostri grafici iniziando dall'euro dollaro allora l'ultima seduta vedete l'ultima seduta della settimana è iniziata poco mossa per la coppia più tradata nel mercato forex infatti durante la prima seduta la prima parte della seduta la sessione europea nella sessione europea la major si è mantenuta tra 1.0930 e 1.0970 se ci spostiamo infatti sopra sull'orario vediamo bene vedete qua c'è tutta questa situazione questa è la seduta la parte mattutina ovvero il mercato praticamente ha avuto un atteggiamento attendista in vista dei riscontri in arrivo durante il pomeriggio dagli Stati Uniti infatti proprio durante la seconda parte della seduta abbiamo assistito a un aumento della volatilità vedete che ha portato la coppia fino a toccare un massimo deli a 1.1030 per poi tornare leggermente sul finale di seduta fino ad attestarsi e chiudere appunto le ostilità a 1.0988 ricordo che l'avvicinarsi del primo rialzo dei tassi FED atteso mercoledì prossimo 16 dicembre torna a essere il tema centrale del mercato se spostiamo invece al settimanale vediamo che il settimanale invece evidenzia una settimana rialzista evidenziando anche evidenziato questo diciamo questa situazione anche dal net change vedete il net change praticamente è spaccato è diviso a metà i intervalli di tempo più bassi cioè giornaliero settimanale mensile sono rialzisti mentre il trimestrale semestrale è l'annuale quindi quelli che praticamente tengono forza gioco forza sono ribassisti quindi ciò che cosa vuol dire vuol dire che praticamente abbiamo nel medio termine in questo momento abbiamo una fase di correzione rialzista rispetto al movimento lungo al grande movimento short vedete infatti l'annuale prezzo la coppia ha perso il meno 9,54% quindi abbiamo in questo caso ciò evidenzia una correzione rialzista di medio periodo rispetto invece al al thread principale che rimane del tutto short quindi mentre invece se un attimo solo si è spostato mentre invece per quanto riguarda la caloc si è tolto ok lo facciamo online allora un attimo solo allora per quanto riguarda invece andiamo a vedere che cosa è successo sull'al caloc si ci vediamo qua eccoci qua allora per quanto riguarda la caloc cioè sarebbero i livelli che misurano massimo minimo apertura e chiusura del mese precedente che io ritengo molto importante perché ci danno una ulteriore informazione in merito a quello che sta facendo in questo mese il prezzo nei confronti di quattro elementi principali del mese precedente vediamo che la caloc quindi abbiamo una tendenza ribassista non confermata perché perché praticamente ci troviamo vedete ci troviamo tra l'apertura l'open e la chiusura e il minimo della seduta del mese precedente ovviamente in caso in cui viene superato l'ai avremo praticamente un cambio di fronte ci sposteremo a un a un movimento confermato rialzista quindi mentre l'rsi è invece in zone per comprato gli altri indicatori ci danno delle informazioni un po' distorte attenzione la coppia quindi per tre sedute di fila continua a mettersi vedete al di sotto dell'open e dell'ai del mese precedente vedete queste io le utilizzo anche come supporto di resistenza questi livelli ciò è molto probabilmente almeno che non sia una sortita al di sopra al di sopra dei due livelli anche per la prossima settimana potremo avere un'impronta di bassista ma ovviamente il tutto dipende sempre da quello che succede il 16 settembre il 16 dicembre quindi con il meeting della fed sui tassi interessi quindi a questo punto vediamo un attimo cosa succede anche lunedì e martedì per poi vedere sul al momento quindi sul da farsi quindi al momento restiamo un attimo in stand by allora mentre invece passiamo all'USDN il net change sull'USDN vede praticamente solo il mensile e l'annuale di alzisti ma invece l'impronta quindi principale è tutta short perché abbiamo del settimanale mensile e semestrale quindi la situazione che tale situazione che insieme all'HLOC vedete HLOC che evidenzia una tendenza di bassista non confermata perché praticamente la coppia non ha ancora superato l'open e l'over verso il basso quindi siamo ancora in un momento di posizionamento in stand by da parte della coppia dollaro yen tra l'altro vediamo che l'open coincide con il supporto generale a 120 e 40 l'RSA invece una situazione molto importante sta toccando la zona di per venduto cioè sta proprio sul livello 20 quindi molto probabilmente ritengo che a meno che o c'è un un test un ritest verso il supporto a 120 e a 40 molto probabilmente potremmo assistere a uno a due tre giorni ma secondo me a massimo neanche a tre arriviamo a due giorni di correzione rialzista ovviamente adesso non abbiamo gli elementi anche da parte della price action gli elementi importanti per poter decidere se entrare o meno al mercato passiamo al cable il cable invece vedete il net change del cable anche qua abbiamo gli intervalli temporali dal giornaliero al mensile sono tutti rialzisti mentre il trend principale continua quindi ad essere ribassista infatti vedete abbiamo il mensile e l'annuale siamo a meno 2.32 per meno 3.09 la caloc invece abbiamo una tendenza rialzista non confermata perché anche qua vedete siamo all'interno di questa fascia tra l'open a 1.54 e 47 e close a 1.50 e 55 del mese precedente quindi ovvero quindi è una situazione abbastanza da tenere un po' sotto controllo ovviamente anche poi l'RSA invece siamo in direzione verso il livello di percomprato quindi anche dal punto anche dal punto di vista tecnografico si evidenzia quanto abbiamo già confermato quando già hanno confermato la net change la caloc ovvero siamo all'interno di un movimento di breve rialzista iniziato appunto dai minimi a 1.48 e 94 ovviamente anche in questo contesto il movimento in atto potrebbe essere più importante in caso di superamento della resistenza mensile a 1.52 30 anche il settimanale evidenzia vedete una candela un attimo solo anche il settimanale evidenzia una candela long dal punto di vista quindi operativo attende il superamento di 1.52 per poi decidere sul da farsi passiamo all'aud usd allora aud usd vediamo che in net change vedete è tutto short addirittura abbiamo un sull'annuale segna un meno 12 28 per cento l'unico che si mantiene ancora ma penso per un brevissimo periodo è il trimestrale l'hlock evidenzia anche qua una tendenza ribassista non confermata perché ci troviamo tra chiusura e open del mese precedente l'RSI si trova vedete a viaggiare verso molto probabilmente almeno dall'inclinazione sembra che vuole iniziare sta puntando verso il livello 20 di iper venduto la giornata nell'ultimo seduto nell'ultima seduta dell'ottavo è stata ribassista con la coppia che con forte movimento short ben strutturato vedete quasi sembra una marabosa perché praticamente diciamo abbiamo le shadow sia lower che la upper sono limitatissime quindi la coppia si è riportata appunto con prepotenza al di sotto del livello a 0 72 e 80 questo livello giornaliero chiudendo la settimana appunto 0 71 85 però una cosa interessante che vi voglio far vedere anche perché iniziate a seguire il corso su John Ross la prima parte la seconda parte ci sarà esattamente ci sarà esattamente un attimo solo ci sarà esattamente mercoledì prossimo 16 dicembre la seconda parte su John Ross però già possiamo evidenziare una cosa molto importante cioè abbiamo qua abbiamo vi faccio vedere in diretta abbiamo già un 1 2 3 allora questo è 1 questo vede 2 dove metto la freccia e poi abbiamo e questo è il 3 vede 1 2 3 di solito questo è un è un 1 2 3 high di John Ross che evidenzia un cambio di direzione dal movimento dall'ultimo movimento realistista vedete questo qua a un nuovo movimento short questo è l'inizio l'1 2 3 di Ross quindi ci dà una buona indicazione cioè di un inizio di un movimento ribassista ovviamente non sappiamo ancora se sia un vero e proprio cambio di trend oppure una semplice correzione del movimento long l'ultimo movimento long iniziato esattamente sul a 0 70 15 ora che cosa succede a questo punto io domenica sera al momento dell'apertura dei mercati andrò ad inserire un quindi un pendone di vendita a rottura del punto 2 quindi questo è il punto 2 a rottura del punto 2 ed con quindi andremo a mettere eccolo qua a rottura del punto 2 questo è l'ingresso ed lo stop loss praticamente sul a pochi punti a pochi di sopra del punto 3 ok quindi stop loss qua e prezzo di ingresso qua il target lo vado a posizionare esattamente a 0 70 e 20 qua quindi abbiamo un rapporto in questo momento 1 a 1 quindi di seguito quindi i set 1 a 1 diciamo a pochi punti al di sopra del supporto vedete giornaliero quindi abbiamo i set up di ingresso a mercato saranno un sell stop a 0 71 65 qui uno stop loss a 0 73 35 qui super giù e un target come abbiamo visto prima a 0 70 e 20 ok quindi domenica sera in seguito questo pendente in più poi vedete è confermata anche da questa ultima candela short che praticamente qua abbiamo una falsa rottura vedete di questo livello statico giornaliero di colore rosso 0 72 80 quindi da valare la nostra tesi che molto probabilmente potremo assistere a un movimento short passiamo usd card allora usd card qui vedete abbiamo un net change dell'usd card tutto di colore rosso addirittura l'annuale segna un più 18 e 63 per cento quindi la coppia in quest'anno ha spinto molto molto al rialzo anche la caloc vedete verde pieno significa che siamo al di sopra dell'AE del massimo del mese precedente e il trend quindi abbiamo anche per questo periodo abbiamo un trend rialzista confermato l'RSI invece è ancora in zone per comprato e al momento non c'è nessun segno di cedimento al di sotto del livello 80 a conferma delle indicazioni degli indicatori l'ultima seduta vedete ha contribuito a spingere la coppia al rialzo ottenualmente fino a toccare a terminare e terminare la seduta a 1 37 e 40 quindi questo livello è stato raggiunto l'ultima volta nel maggio del 2004 dal punto di vista operativo dopo che i prezzi hanno raggiunto diciamo un massimo così importante di solito è consuetudine che c'è sempre una correzione nel caso specifico quindi dovrebbe essere una correzione al ribasso attendiamo a questo punto non abbiamo un cedimento attendiamo un primo cedimento individuato anche dalla price action ovviamente io che cosa ho pensato ho detto che vabbè in caso di cedimento ovviamente dovrebbe rompere l'ultimo minimo che sarebbe questo qua diciamo nel breve periodo avevo pensato di inserire quindi un'operazione short di vendita a rottura qua 1,36 lo stop lo sto qua però ho deciso anche di attendere quello che mi dice le informazioni della price action per poter poi vedere un attimo anche perché se qua domani avremo una candela anche una pinna ribassista quindi andrò ad entrare in mercato a mercato quindi anche con un un timing di ingresso più opportuno passiamo ad un zilandollaro in un zilandollaro vedete il net change è praticamente abbiamo solo il mensile il trimestrale il rosso e vebbe rialzista mentre gli altri danno una tendenza short l'Hlock ha una tendenza ribassista non confermata anche perché vedete non riesce a rompere l'open live vedete più volte attentato il prezzo però senza mai nessun risultato importante l'RSA invece ha toccato il livello 80 e sta diciamo neanche toccato è arrivato quasi a toccarlo però è poi iniziato a virare verso il basso la coppia però vedete come dicevo prima non è riuscita a superare questa zona questa è una forte zona di resistenza c'è quest'area tra high e open del mese precedente molto probabilmente fornisce la possibilità di una nuova fase ribassista però dovremo vedere la prossima settimana cosa succede euro sterlina allora togliamo queste diciamo altrimenti possiamo fare un po' di confusione allora l'euro sterlina in net change andiamo a vedere subito che cosa ci dice in net change allora il net change dell'euro sterlina euro gbp anche qua vedete è quasi tutto realzista solo short trimestrale e l'annuale quindi molto probabilmente si tratta di una correzione di medio periodo la caloc invece essendo i prezzi di sopra dell'ai ma che si mantengono abbiamo un trend realzista confermato l'RSA invece non ci dà nessuna informazione piatto vedete sta tralottando il cliente qua abbiamo evidenziamo vedete il grafico che cosa ci dice ci dice che siamo in una fase di congestione alle sopra il supporto a 0 71 95 coincidente anche con vedete con il massimo del mese precedente vediamo che cosa succede in settimana e poi decidere su che cosa dobbiamo fare euro yen euro yen sarebbe l'unica operazione che noi abbiamo a mercato ma il net change vediamo se è a nostro favore eh sì perché per niente noi siamo short il net change vedete tutto ribassista tranne in mensile che 2,14 anche l'alcaloc ci fornisce una tendenza ribassista non confermata perché praticamente siamo l'unica il prezzo si è fermato diciamo si è appoggiato sul livello questo qua che rappresenta l'open della seduta del mese precedente praticamente quindi dobbiamo abbiamo detto che ovviamente un ulteriore spinta short che praticamente vedete dal punto di vista tecnico grafico abbiamo l'ulteriore spinta short accompagnato l'ultima seduta seppure diciamo la giornata è stata a doppia mandata perché prima il prezzo è salito su questo massimo di giornata a 1.0376 per poi diciamo usufruire poi dopo nella partire dalla seconda parte della seduta di un forte intervento da parte dei venditori che hanno spinto il prezzo vedete hanno ecco perché diciamo il prezzo è stato spinto verso il basso ciò si è evidenziato anche dal corpo piccolino diciamo al di sotto del 50% della candela fino a chiudere le ostilità a 132 e 81 per quanto riguarda la nostra situazione operativa la nostra operazione è sciolta siamo in gain momentaneo di circa 35 punti e quindi lasciamo tutto come sta molto probabilmente le indicazioni che ci hanno dato i nostri indicatori avremo un altro movimento di bassista ora invece passiamo all'eurocad eurocad anche qua in net change se noi vediamo dell'eurocad è tutto realzista quindi evidenzia una forza realzista una tendenza realzista anche l'hlock siamo al di sopra dell'ai oramai l'ultimo massimo dell'open del mese precedente qua abbiamo anche qua c'è evidenzia una tendenza realzista confermata l'RSA si trova ancora all'interno della zona di per comprato e attendiamo cosa succede quindi nei prossimi giorni ovviamente io attenderò siccome siamo su due massimi importanti o come abbiamo visto prima 1 2 3 high di rosso oppure una una indicazione di correzione short da parte della price action oppure attenzione potrebbe anche essere un nuovo fase di di stand by come è successo questo vedete qua oppure quest'altra candela rossa che praticamente potrebbe essere sfruttato per poter entrare nuovamente al mercato long però saremo a vedere cosa succede la prossima settimana ora passiamo invece all'unico ancora pattern armonico ancora in atto sul giornaliero ed è formato ed è dato dal giornaliero dell'aud card qua vedete è ancora valido il pattern anche l'indicatore che ho spiegato vedete abbiamo in evidenza un bearish butterfly inoltre ad avvalorare diciamo ripeto ancora più cambiamenti di tendenza da rialzista a ribassista c'è un incontro con la posizione in cui adesso si trova la coppia perché la coppia si trova sui massimi su massimi importanti raggiunti l'ultima volta a marzo del 2015 l'analisi tecnica mi dice che la coppia per scendere deve per forza però rompere il supporto settimatale posizionato a 0,9744 qui per me a questo punto come da regola da regole per chi ha seguito il webinar sui partner armonici attendo una candela che chiude sotto la EMA 6 di colore verde questo qui quindi vedete che coincide proprio con 0,9744 quindi alla fine quello che dobbiamo focalizzare l'attenzione è proprio questa zona eccola qua è proprio questa zona qua vedete questa è la zona interessata mettiamo un po' più sopra eccola qua vedete questa è la zona interessata ovviamente attendo una chiusura della candela al di sotto la EMA 6 di colore verde con stop loss sopra il massimo precedente dell'avvenuto segnale di ingresso e target già l'abbiamo visto l'altra volta dato dal ritracciamento di fibonacci dal minimo al massimo quindi dal minimo al massimo della figura posizionando il primo target a 61,8 la regola è questa mentre il secondo da 78,6 però io che ho fatto ho se vado a tracciare i nuovi fibonacci vedete ho utilizzato il 72 cioè una via di metro tra 61,8 e 78,6 ok più performante di solito arriva così ho fatto un errore di tracciarlo per bene eccolo qua vedete che poi alla fine coincide anche con al star di sopra vedete come coincide con il 72 con questo è ancora più avvale ancora di più la mia tesi perché coincide con questo supporto di colore celeste quindi settimanale a 0,93 91 quindi la zona dove praticamente segno la segno così questo sarà il mio livello di uscita dall'operazione cancello eccolo qua quindi cancello il livello di Fibonacci perché una volta che ho tracciato il target non mi interessa più ovviamente vedete che un'operazione del genere va a fruttare se entrerò a rottura di questo supporto con lo stop loss qua però lo stop loss sia abbastanza importante 300 punti però se vedete il target siamo a 350 punti quindi praticamente abbiamo quasi uno a qua uno a due quindi abbiamo quasi raddoppiato però ovviamente possiamo anche ovviamente se c'è qua un possiamo anche limitare lo stop loss se c'è praticamente in questa zona nella settimana prossima un boom pattern in ingresso al mercato sciolto al momento però focalizziamo con attenzione su Aldocad quello che è successo nella settimana nel momento in cui abbiamo un segnale importante non dobbiamo esitare ad entrare short perché ripeto i pattern armonici sono delle figure molto importanti quando si presentano ovviamente danno i risultati importanti bene non c'è altro da dire quindi possiamo concederci e quindi io vi auguro un buon fine settimana e ci vediamo direttamente lunedì sera con la prima analisi giornaliera della settimana che poi dove avremo l'importante meeting della Fed che ci sarà ripeto mercoledì 16 dicembre bene grazie a tutti e buon riposo a tutti grazie a tutti